Musica Buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati con informazione di Bassano TG. Come ogni domenica rivediamo insieme i fatti principali della settimana. Sono finalmente partiti i lavori di restauro del ponte degli Alpini, il cantiere più atteso della città durerà 850 giorni. Il problema principale sarà il lavoro in alveo, nel senso che il Brenta è un fiume non facile a carattere torrentizio, quindi dovremo fare i conti con questo, se tutto andrà bene saremo anche aiutati da buona sorte, io credo che si potranno anche accorciare questi tempi, vedo la ditta molto focalizzata su questo, in termini di attenzione, però siamo sempre dentro al Brenta e dobbiamo rispettare il nostro fiume. Fiume che da oggi è stato dichiarato interdetto con un'ordinanza del comune immediatamente esecutiva, per 150 metri a monte e 250 metri a valle del ponte. Il divieto è valido per tutte le imbarcazioni, tranne quelle esplicitamente autorizzate. Alla fine del mese, dopo la messa di sicurezza del cantiere, sono previsti i primi interventi in alveo per mettere in secca metà del fiume e cominciare il restauro delle stilate. La sfida tecnica principale è quella di riuscire da una parte, una volta avviato il cantiere, a capire bene alcuni aspetti delle tecniche costruttive che non si possono capire né da fuori né per la grande campagna di indagini che è stata fatta e mettere eventualmente appunto in corso di cantiere delle ulteriori passi, sia tecnologici che di affinamento dell'intervento. I lavori finanziati per circa 7 milioni dal Ministero dei Beni Culturali, della Regione Veneto ed alcuni contributi privati dovrebbero concludersi a settembre 2018. Purtroppo, e dico purtroppo, le norme nazionali non ci permettono di poter utilizzare l'avanzo per ridurre le tasse. Sarebbe molto bello e sarebbe sia da cittadino ma anche da amministratore mi piacerebbe poter fare questa cosa, ma non è possibile. Così l'assessore al bilancio del Comune di Bassano, Angelo Vernillo, risponde alle critiche della consigliera leghista Tamara Bizzotto. Le maggiori entrate fiscali dell'ultimo esercizio non ci consentono comunque di ridurre gli importi delle tasse per il futuro, sostiene. Ci sono precise norme che lo vietano. Impegneremo comunque quei soldi, promette, per migliorare la vita dei nostri cittadini. Ma sicuramente ci sono alcune cose che sono importanti in termini viabilistici, penso soprattutto a delle situazioni e delle realtà che sono ferme da molti anni. Per cui su questo stiamo facendo un ragionamento importante e a breve andremo anche a definirlo in sede pubblica e in sede anche di commissioni di bilancio. Su quali siano nel dettaglio gli interventi più urgenti da fare promette Vernillo. Discuteremo insieme a tutto il Consiglio Comunale, ascoltando anche chi rappresenta la parte di cittadinanza che non ci ha votato. Faremo un ragionamento su quelle che sono le priorità dell'amministrazione, ma anche lo condivideremo con tutti i consiglieri comunali, anche di minoranza, perché riteniamo che su queste scelte anche importanti, oltre all'indirizzo, alla visione chiara dell'amministrazione in carica, ci debba essere quantomeno un confronto con le minoranze. Il primo consiglio di amministrazione dell'era Atlante comincia con il via liter dell'azione di responsabilità. Il presidente della Banca Popolare di Vicenza, Stefano Dolcetta, ha stabilito che nella prossima riunione verrà affidato a un legale di alto livello l'incarico di verificare gli eventuali profili di responsabilità riscontrabili nella gestione di Gianni Zonin e Samuele Sorato. Una risposta all'indomani dell'esternazione di Matteo Renzi, che chiedeva una presa di posizione netta nei confronti della precedente amministrazione. Il premier ha detto che in Veneto qualcuno ha fatto sparire i soldi nel silenzio più totale, chiedendo di fatto di agire contro chi ha gestito la banca. Sarà però Atlante a prendere una decisione definitiva nel giugno prossimo durante la prima assemblea dei soci post ricapitalizzazione. Adesso, se il primo atto di Atlante è quello di andare a capire, a individuare, a promuovere nelle sedi legittime azioni di responsabilità, è solo un fatto tardivo e pesantemente tardivo, ma di cercare di fare chiarezza e di dare anche attraverso questo qualche risposta alle tantissime persone, decine di migliaia, come sappiamo, e tantissimi problemi che riguardano le persone, le aziende, tutto quello che era collegato, che hanno avuto danni pesantissimi. Il numero crescente di arrivi di profughi sulle coste italiane rende attualmente impossibile programmare con certezza quanti saranno i migranti destinati ad essere ospitati nel nostro territorio. E il prefetto vicario Massimo Marchesiello non se la sente di escludere alcuna soluzione per far fronte all'emergenza, compresa quella estrema delle requisizioni di alloggi. Attualmente, puntualizza, non sono previste, ma se i numeri continuano a aumentare a questo ritmo potrebbero diventare necessarie. Un'eventualità che vedrebbe la maggior parte dei bassanesi tutt'altro che entusiasti. Non è giusto, non è giusto, perché di no? Perché secondo me la proprietà privata va rispettata. Non è giusto perché noi che abbiamo lavorato una vita, adesso stiamo mangiando tutto. Andiamo per carità domani passando. Dopo dipende da quanto tempo anche. Quello che dopo non li mandi più via. No, non condivido assolutamente, perché la proprietà privata resta proprietà privata, secondo me. È un valore veramente importante. Io, per il mio parere, dopo... Perfetto sembra non pensarla così. Perfetto è perfetto, io sono una persona, un stadio italiano che la pensa in modo diverso. Ma penso che la competenza è sua, l'emergenza c'è e l'emergenza va risolta, lui è questa autorità, penso che possa farlo. Ci deve essere, logicamente, una discussione aperta, pubblica, dove si discute di questi problemi qui, perché chiaramente non è simpatico che uno ha più proprietà e quindi dopo venga così confiscato per questo uso. Però, da tenere presente che c'è questa grande deficienza in giro. Se la situazione è questa, l'Italia non può in mio ospitare l'intero mondo. Chi ruba piccole quantità di cibo, spinto dall'esigenza di nutrirsi, non commette reato. La parola fine su questa non banale questione l'ha messa la Corte di Cassazione, con la sentenza di assoluzione per un senza fissa dimora, che per sfamarsi aveva rubato vustele e formaggio da un supermercato. Ma se dal punto di vista legale la vicenda è chiusa, non lo è dal punto di vista etico. E anche i bassanesi si interrogano sul tema, divisi quasi equamente tra chi chiede comprensione e chi invece sostiene che rubare non sia mai giustificabile. Mi sembra di aver capito che si trattava di 4 euro. Cioè che, diciamo che, sì, finché si tratta di questa roba qua, insomma, potremmo anche sorvolare. Per così poco, direi che, insomma, un occhio... Possiamo perdonare. Esatto, esatto. Allora, se tutti i ladri dovessero giustificare i furti che fanno, avevo fame, avevo bisogno, prendiamo il codice penale, mettiamo il librettino del catechismo, 5 Ave Maria e 4 Padre Nostro e giura che non lo fai più. Che secondo me è così incrementiamo un po' l'immigrazione, quello che fanno nell'immigrazione, comunque delle delinquenze legate all'immigrazione. Questo è il mio parere. Poi è ovvio che bisognerebbe trovarsi in realtà proprio ad avere fame e vedere un po' come uno reagisce in sostanza. Perché se uno ha anche una famiglia a casa da mantenere, non ha soldi per prendersi, neanche per sfavare i propri figli, quello è un altro discorso. Si può chiedere, uno ha fame, chiede, anziché rubare. La fame è fame, cioè uno se ruba per lucro è un conto, la fame non si discute, cioè poi aiutarli prima di rubare forse è meglio. Forse da un punto di vista umano può essere comprensibile visti i tempi, però mi disturba un po'. Ritengo che se la corte di Cassazione, che è composta da persone che hanno studiato e hanno sudato per arrivare fino là, abbia deciso così, io che non sono informato ritengo che prima debba informarmi, prima di giudicare cosa delle persone più informate e istruite di me abbiano scelto. Ci siamo costituiti anche parte civile, io e Graziano, abbiamo chiesto simbolicamente 100.000 euro a testa, io mi sono costituito anche come società del negozio che ha chiuso e abbiamo chiesto 500, mezzo milione di euro di risarcimento. Questa è la cifra che Graziano Stacchio e Roberto Zancan hanno chiesto come risarcimento a Oriano Derlesi, giostraio veneziano di 52 anni, accusato di aver fatto parte del commando che assaltò il negozio. Il gioielliere e il benzinaio che schivarono i proiettili si sono costituiti parte civile al processo. I legali di Derlesi hanno rinunciato al rito abbreviato. Non hanno optato per il rito abbreviato ma bensì per il procedimento classico, con testimonianza e tutto quanto. Perché appunto si rischiano che le cose non sono andate come sono state descritte da noi. Tanto lì c'è un video che parla, ci sono le perizie balistiche irripetibili dei rischi e non so cosa vogliono provare. L'eventuale risarcimento andrà completamente in beneficenza, nel fondo per le vittime della criminalità. In particolare per sostenere le spese legali di chi come stacchio è finito indagato per eccesso colposo di legittima difesa. È un fondo che abbiamo già creato, che è quello che ha pagato anche i funerali del povero Hermes e che continueremo a tenerlo vivo anche con l'iniziativa della collezione che ho fatto io in legittima difesa e la percentuale che vi è messa dentro in modo da non far morire questa cosa, anzi. A Monfumo le elezioni del sindaco rischiano di finire in un plebiscito perché attualmente vi è un solo candidato, il farmacista del paese Luciano Ferrari, dopo che il primo cittadino in carica ha annunciato di non volersi ricandidare. Tutti i candidati che abbiamo sentito anche noi hanno fatto una considerazione dicendosi bello, interessante, però io devo stare attento al mio lavoro perché non lo posso perdere. devo dedicare del tempo altrimenti vado in cerca di far danni e poi c'è qualcuno che pensa magari anche alla famiglia e non cercare questo impegno che sicuramente chi sa di cosa si tratta si sa che è molto gravoso. Fare il sindaco è certamente un grande onore, spiega il primo cittadino uscente, ma impegna moltissimo tempo in cambio di un rimborso spese che copre appena la benzina e se una volta amministrare era un piacere oggi è diventata una grana che in pochi hanno voglia di prendersi. Si deve sempre fare il conto con i bilanci che sono sempre più poveri, poi c'era il patto di stabilità, adesso c'è il pareggio di bilancio, non si sa se è migliore, se è peggiore e poi c'è anche da considerare che ci sono tutta una serie di cose da sistemare in questo periodo, nel senso che si parla di associazionismo, di mettere insieme i servizi, non è una cosa semplice, il personale ormai è ridotto all'osso, se qualcuno va in pensione non si può sostituire, quindi sono problemi che da qui in avanti saranno sempre più gravosi. L'ultima speranza dell'attuale maggioranza sarebbe la ricandidatura di Rodolfo De Paoli, sindaco del paese fino al 2006 che però deve ancora sciogliere la riserva, mentre un appello arriva anche dal candidato avversario, perché dice vincere da soli non è bello. Non è bello, mi auguro naturalmente che ci sia una seconda lista, sono convinto alla fine che ci sarà, probabilmente le difficoltà che abbiamo avuto anche noi per coinvolgere i giovani soprattutto, li ha anche chi probabilmente sarà il mio antagonista, ma sono convinto che alla fine un'altra lista ci sarà oltre la nostra. Intervenire per mettere in sicurezza la zona prima che sia troppo tardi. La discarica a Melagon sull'altopiano di Asiago preoccupa la Valbrenta. Con un'interrogazione al Senato, il Movimento 5 Stelle ha chiesto di far luce sulla situazione e valutare il possibile pericolo ambientale. I parlamentari si sono rivolti ai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela della Salute Pubblica per conoscere quali iniziative intendano intraprendere per salvaguardare l'integrità ambientale e la salute della collettività, considerato che fattori esterni, anche di tipo sismico e di tracimazione, potrebbero condurre ad un potenziale disastro ambientale, inquinando le acque del secondo bacino acquifero più importante d'Europa. Il bacino in questione ovviamente è quello di Oliero. Il luogo scelto è sicuramente sbagliato, c'è però tutta la possibilità di intervenire. Io ripeto il mio appello, se a livello di governo centrale ma anche di governo della regione non si interverrà con la prontezza che è necessaria, rischiamo da qui a qualche anno a dover intervenire di fronte a una situazione di possibile danno ambientale. Intanto il sindaco di Valstagna, Perli, ha chiesto al sindaco di Asiago di convocare una conferenza dei servizi con amministratori pubblici e gestori della discarica per verificare se sono state fatte delle prospezioni geofisiche sul suolo, esami ed accertamenti sul materiale conferito e se esistono pericoli di infiltrazioni dannose. A Bassano del Grappa per studiare come Etra gestisce i rifiuti. Direttamente dalla Catalogna decine di tecnici e professionisti hanno visitato l'impianto di gestione anaerobica e di compostaggio di quartiere Pre, che fa parte del polo rifiuti bassanese. È un motivo di orgoglio per la nostra società, è l'impianto più grande che abbiamo e tratta una mole imponente di rifiuti, 38.000 tonnellate all'anno. È un impianto, dicevo, motivo di orgoglio perché ha una tecnologia estremamente avanzata Durante la visita della delegazione sono state illustrate le modalità con cui Etra gestisce la raccolta differenziata dell'umido e le peculiarità di questo impianto che si caratterizza per l'avanzata tecnologia. Questo impianto peraltro fa proprio una direttiva della comunità europea, cioè abbandonare l'idea dell'usegetta, quindi del rifiuto come un qualche cosa che ha esaurito il suo ciclo vitale e vederlo invece come una risorsa, un rifiuto dal quale poter trarre energia. Infatti qui ogni anno vengono prodotte dal rifiuto circa 10 milioni di kilowattora di energia elettrica. Un fiore all'occhiello di Etra che rientra tra i leader di settori nazionali e che oggi vengono studiati anche da esperti e multiutiliti estere, come nel caso della Catalogna. Il motivo di questa visita è quello di portare una serie di comuni della Catalogna a visitare le esperienze italiane per vedere dal vivo il modello porta a porta che si è già stato implementato in Catalogna da alcuni comuni, però abbastanza pochi e adesso secondo i nuovi obiettivi europei c'è una grande spinta nel passare dai vecchi sistemi a contenitori stradali al modello porta a porta e qui in Italia ci sono le migliori esperienze. Un fondo per aiutare i carmignanesi in difficoltà economiche, previsto un contributo massimo di 1000 euro a nucleo familiare, due le condizioni stabilite dall'amministrazione per avere accesso a queste risorse. Due sono i requisiti fondamentali del progetto, quello di avere la residenza ininterrotta nel comune di Carmignano di Brenta per almeno 8 anni e quella di non superare un ISEP del valore pari a 30.000 euro. I soldi serviranno per coprire le spese sostenute dalle famiglie in ambito sanitario oppure scolastico, ma anche per le giovani coppie che hanno bisogno di un aiuto per iniziare la loro vita insieme. I destinatari sono tutte quelle famiglie che hanno diversi figli a carico, sono anche coppie di anziani che appunto hanno per esempio la pensione minima che fanno fatica ad arrivare a fine mese, anche tutte quelle coppie che devono ancora sposarsi. Le risorse accantonate dall'amministrazione ammontano a più di 30.000 euro. In futuro si valuterà un eventuale rifinanziamento. La situazione attuale vede ancora particolarità per aziende in difficoltà che chiudono e quindi l'attenzione deve essere massima. Questa è una delle azioni, il sostegno a famiglia è un'azione, altre ne saranno fatte nei prossimi mesi. Risultati di analisi dell'acqua effettuate da Etra nel comune di Campolongo sul Brenta. I dati che vi presentiamo rappresentano le medie sulle analisi effettuate e attestano la purezza microbiologica dell'acqua che ogni giorno sgorga dal vostro rubinetto e da casa potete fare il confronto tra i dati riportati su queste tabelle e gli stessi che trovate nell'etichetta delle acque in bottiglia. Il pH ovvero l'indicatore d'acidità è 7,51, il residuo secco è pari a 149 mg litro, colore e odore sono assenti, il calcio è 52,2 mg per litro, i floruri hanno un valore di 0,12 mg su litro mentre il potassio è inferiore ai 5 mg litro, il magnesio si attesta sui 5,8 mg per litro. I dati sono stati forniti da Etra che si occupa di monitorare all'acqua assieme alle ULS in tutto il territorio di sua competenza. Grazie di essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona domenica, arrivederci!